Appassionate e appassionate di cicloturismo, cicloescursionismo, benvenuti in questa puntata di Bike Trail Café. Chi abbiamo con noi in questa occasione? Abbiamo con noi Francesca Barale. Benvenuta Francesca. Grazie mille. Grazie di essere qui con noi. Per chi non la conosce, ma secondo me sono pochi qua nell'Alto Piemonte, ma in tutta Italia direi, che seguono il ciclismo professionistico femminile che non ti conosce, Francesca è una ciclista professionista di Domodossola, giusto? E soprattutto la terza generazione di una famiglia di corridori professionisti, dei Barale. Francesca, la prima domanda, cosa significa essere la terza generazione di una famiglia? Cioè, nonno, Germano, professionista, Gregario di Coppia, ricordiamolo, come dice l'amico e collega Gianluca Trentino. Il prozio, fratello di Germano, Pino, anche lui professionista. Florido, tuo papà, professionista. E Francesca? Eh, diciamo che è bello essere parte di una famiglia di ciclisti, io sono cresciuta a pane ciclismo e quindi è stata un po' una via, diciamo, normale che ho seguito. Cioè non potevi giocare a cricche? No, no, ho provato lo sci perché dalla parte di mia mamma sono sciatori, ma no. E quindi diciamo che mi è servito anche tanto poi durante la mia carriera giovanile, diciamo, essere circondati da una famiglia di ciclisti perché se avevo un problema, comunque adesso anche mio papà ha il negozio, quindi diciamo che... Il nonno, giusto, aveva il negozio, ricordo bene? No, il nonno non aveva il negozio, mio papà l'ha aperto lui da solo. L'ha aperto lui, ho fatto già un errore, è solo il tuo papà. Però dai, mi ha sempre aiutato e ancora adesso se non ci fossero stati loro io probabilmente non avrei fatto niente. Facevi tutt'altro. Sì, sì, probabilmente. Senti, ma tu sei nata nel... 2003. Quindi giovanissima e questo è un anno di professionismo al tuo stile? No, ne ho già fatti due, quindi l'anno prossimo inizio il terzo e sono donna elite però considerata ancora donna under 23. I primi quattro anni sono under 23, però noi donne non abbiamo la categoria separata, però certe volte siamo calcolate separate, è un po' un sistema... Ho capito. Che cosa rappresenta per te la bicicletta? Oltre che uno strumento, passami i termini, visto che sei una professionista di lavoro, possiamo dirlo perché squadra corri? Sì, DSM Firmini che è la mia squadra. Che è una squadra di che nazione? Olandese. Olandese, perfetto. Quindi è uno strumento di lavoro la bicicletta. Oltre che è uno strumento di lavoro per la famiglia, perché tuo papà abbiamo detto ha un negozio di biciclette, ma per te l'oggetto bicicletta, lo strumento bicicletta che cos'è al di fuori delle gare? Ma diciamo che io mi sono appassionata prima e poi sono stata fortunata, ancora oggi mi ripeto fortunata a dire che il mio lavoro è la mia passione. Quindi prima di tutto per me è uno strumento che mi aiuta a stare fuori, a fare quello che mi piace, a liberare la mente. Quindi il giorno, credo che il giorno in cui magari inizierò a chiamarlo lavoro seriamente sarà poi il giorno che smetterò. Però continuerai a fare, diventerai la cicloturista. Sì, probabilmente. Però per me prima è divertimento e poi lavoro, diciamo. Questa è una cosa molto importante. Come si svolge la giornata di una donna professionista nel ciclismo? Cioè che mi sentirei dire fate la stessa fatica che fanno i professionisti uomini. Certo. Non è che le donne avete degli sconti sui dislivelli o sui percentuali della salita. Come si svolge una tua giornata tipo? Un anno? Come è organizzato? Un anno? Ci sarà una fase di allenamento? Allora diciamo che io inizio adesso, ottobre e novembre, la fase in cui rinizio ad allenarmi dopo una pausa di tre settimane. E rinizio ad allenarmi ovviamente con programmi un po' più blandi rispetto a quello che faccio magari durante... Quando dici pausa vuol dire proprio che non pedali? Sì, faccio tre settimane di nulla. Non vai neanche a fare la spesa in bicicletta? No, c'è cammino, magari faccio una camminata qua e là. Però la bici la dimentichi. Però la bici non la tocco. E dopo diciamo appunto dicembre, dicembre abbiamo anche il primo ritiro con la squadra, poi gennaio anche, diciamo di solito a marzo ricominciamo le gare e da marzo a ottobre gare completamente, la stagione è abbastanza lunga la nostra e poi si ricomincia, mi fermo così. Però diciamo la giornata è abbastanza semplice, mi sveglio la mattina, colazione diciamo abbondante e vado ad allenarmi e torno e mangio e riposo e dormo la sera. Questo è un po' il ciclo dell'esplista. Quindi una vita quasi monacale devo dire. Sì, no, soprattutto vicino alle gare importanti direi che siamo abbastanza inquadrati, però ovviamente poi pomeriggio faccio le mie cose, io faccio anche l'università online, frequento da un anno adesso, quando ho finito la maturità. Perché diciamo che sono un po' della filosofia che bisogna sempre avere un piano B e quindi diciamo che ho il tempo di fare quello, perché comunque sì, la bici mi prende la mattina, ma comunque il pomeriggio, i periodi appunto in cui non mi alleno posso fare anche altro. Che cosa studi? Biologia. Biologia, bene, è anche una roba semplicissima, devo dire, seppur online si sembra da studiare. Sì, sì, però vado con calma, diciamo, ho i miei ritmi. E senti, prima hai fatto un accenno e ti alleni, ecco, quando sei a casa, quindi quando sei a Domodossola, quindi sulle strade della nostra provincia di Verbagna, il nostro Alto Piemonte, cioè quali sono le strade che fai? Perché magari poi qualche appassionato ti incontra anche, stiamo parlando di bici da strada, perché non l'abbiamo detto prima, lo diamo per scontato, però che tu comunque corri su strada. Sì, 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 sì. Non sei proprio sul senso di mountain bike, ma su strada. Sì, no, beh, io diciamo che abitando a Domodossola, mi piace molto andare sul lago e quindi faccio sempre la valle ad andare a tornare. Quindi già lì sono 90 chilometri, tanto per gradire. Sì, e quindi mi piace molto scendere sul lago, Verbania, quelle zone lì, oppure ogni tanto anche vado verso Omenia e Lago d'Orta. Che per un ossolano è insolito dire mi piace andare sul lago. Eh, forse perché siamo anche in inverno e c'è quel grado in più di differenza che preferisco, però diciamo che invece nella valle la mia salita preferita, se proprio devo dire, è Trontano. Trontano io la faccio sempre, che non è neanche una salita lunga o dura, è proprio, boh, non so, mi piace, sarà che è anche vicino a casa. Però mi piace anche tanto andare verso la Vallanzasca o Vallantrona e vicino a casa mia, dietro a casa mia c'è il Lusentini, quindi spesso vado su anche verso di là. È la salita di casa anche quella, l'usentino? Sì, 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 da domo sì. Secondo te qual è, di quelle che hai fatto? Beh, è difficile chiederlo a te perché ovviamente la tua gamba non è quella di noi cicloturisti, ma qual è la salita più difficile di quelle che conosci che abbiamo qua da noi? Ma penso la segletta. La segletta? Sì, sì, non l'ho fatta spesso, però è lunga e dura. Ricordiamo la segletta che è stata anche teatro di una tappa col mitico Indurain, Giro d'Italia. Questo l'ho copiato da Gianluca Trentini, che lui è un esperto vero e conosce tutti questi dettagli. Ma tu fai anche del cicloturismo o proprio stacchi la bicicletta e proprio non ci vai mai? Perché so di colleghi uomini che invece sono talmente appassionati, colleghi professionisti che sono talmente appassionati che poi finita la stagione si fanno proprio dei giri pazzeschi. Sì, a me diciamo, ho fatto questa settimana, ho fatto la prima settimana di off-season, ho un po' ritardato, diciamo la mia off-season che ho fatto un po' giri tranquilla, poi con mio cugino, qualche amatore così perché mi andava. Però diciamo che no, poi dopo io stoppo, forse qualcosa che mi piacerebbe fare, che avevo fatto con la mia famiglia un po' di tempo fa, fare quei bike trip che vai da un giorno all'altro, fai non so, sei giorni e vai da un posto all'altro ogni giorno, forse farei una cosa così prima o poi, però... E tu vai solo con la bicicletta da strada o ogni tanto vai? No, beh, d'inverno... Non tipo con l'e-bike, ovviamente. No, l'e-bike la uso per andare a fare la spesa. Beh, sì, certo, no, no, mi riferivo ai giri, insomma. Però la mountain bike diciamo che d'inverno ce la fanno usare abbastanza per cambiare un po', per non usare sempre la strada, però diciamo le prime due settimane poi il programma è solo su quella strada. Gravel niente? Perché c'è anche il gravel al femminile. Gravel è un po' una cosa abbastanza nuova, quindi devo dire che un po' mi ispira, non ho mai provato, però... Ne abbiamo una qua in studio, come vedi, è una di quelle che usiamo noi per fare i nostri percorsi, i nostri video sui percorsi che facciamo, non so mai. Però non si sa mai, magari un futuro mi piacerebbe, dai. Fai ciclocross anche? No, mai fatto. Ah, proprio non è una cosa che non ti appartiene? No, 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 però mi piace da vedere, devo dire. Assolutamente. Senti, come si svolge la vita di un team femminile quando siete a fare una o delle gare? Ma diciamo che dipende un po' anche se è una gara tappe o una gara di un giorno, però diciamo che il programma a grandi linee è lo stesso, noi arriviamo alla gara 1-2 giorni prima e hotel, a volte facciamo la ricognizione, però non sempre del percorso, perché diciamo se sono gare in linea è difficile. Massaggi, tutto preparato, meeting e riunione prima della gara e il giorno dopo si parte col bus e si va alla partenza. Perché anche voi avete motorhome. Certo, 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 noi abbiamo il bus tutte le gare e due massaggiatori di cui uno di solito guida il bus e che si occupa tutto e diciamo che non ci manca niente. Finita la gara, sempre anche passo di recupero pronto e tutte queste cose qui. Qual è la parte che tu, scusami, qual è il tipo di gara che tu preferisci? Gare in linee o le corse a tappe? Per questi tuoi primi anni di esperienza tra le professioniste. Ma ero partita che appunto mi vedevo solo da gare a tappe, però arrivavo anche dalle junior che diciamo è una categoria a parte perché non sei ancora diciamo sbocciata. Adesso in questi due anni mi sono resa un po' conto che posso fare un po' tutto e quindi anche la squadra diciamo mi mette in tante gare diverse perché comunque posso lavorare bene nelle gare piatte per la sprinter, posso fare bene nelle gare ondulate e allo stesso tempo nelle gare a tappe, quest'anno anche al giro, sono stata fondamentale di aiuto per la nostra capitana che poi ha fatto seconda e in più a fine stagione ho avuto anche le mie carte da giocarmi nei percorsi un po' così vallonati. Quindi diciamo che sono ancora un po' giovane per dire che cosa riuscirò a fare, però per ora vado un po' bene ovunque. Diciamo che sei in evoluzione. Sì, sì, ci vuole un tre, diciamo quattro anni, probabilmente quest'anno magari sarà un po' definitivo per vedere che cosa, cioè se spicco in qualcosa o se vado bene ovunque. Senti ma le classiche del nord ti affascinano? Sì, devo dire che le ho scoperte appunto l'anno scorso quando ho iniziato a fare queste gare world tour con la squadra e mi piacciono. Diciamo che il pavé non lo so ancora se mi piace, però le ardenne mi piacciono, devo dire. Anche perché hanno scritto storie epiche del ciclismo. Sì, 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 no, ma poi la gente, l'atmosfera che c'è anche solo alla partenza. Non so, sono gare diverse, sono proprio monumenti. Ecco, mi hai fatto venire in mente un'altra cosa da chiederti che mi sono sempre chiesto, non avendo mai fatto la tua professione, hai parlato della gente. Quando una professionista è in gara, voi che cosa sentite del pubblico? Perché mi sono sempre chiesto, guardando le tappe, il Giro d'Italia, il tour, quando sali in mezzo a questi muri di folla, loro parlano, voi sentite qualcosa o siete così concentrate che non riuscite a cogliere quello che c'è intorno? Ma diciamo che la gente si sente, soprattutto quando è tanta, e io trovo che faccia tanto la differenza, ti danno una spinta, certe volte soprattutto alla fine della gara, che l'energia ti vengono fuori, non si sa dove, perché ti spingono in un modo che ti emoziona proprio. E quindi devo dire, la gente si sente, poi il resto quando sei in gara magari non ci guardi tanto, il paesaggio, mi chiedono sempre, ma il paesaggio non ci fai mai caso, però in gara è difficile. Anche perché quando andate a 50 all'ora in gruppo, non credo che sia una roba semplice guardarsi in giro. E quindi forse mi dispiace che magari sia stato in posti o percorsi bellissimi che però non ti godi, però fa anche quello parte della gara diciamo, però la gente si sente. La cosa più curiosa che hai memorizzato, che ti incitavano, ti è rimasto qualcosa in mente? Ma credo alla Liegi, da primo anno, forse perché è stata anche la prima, è stata la prima monumento, oddio, noi non abbiamo proprio, abbiamo qualche monumento, non è proprio come nei maschi, perché due o tre ci mancano, però la Liegi è stata diciamo la prima grossa, grossa gara che ho fatto, e sulla Redoute, che è la salita quella famosa, mi ricordo che, cioè, io tra l'altro ero nel gruppetto indietro, in fondo, perché ovviamente era il mio primo anno, ed ero proprio morta e mi ricordo di questa gente che sbandierava tutte le scritte, perché dopo di noi passavano i maschi, Remco, non so, la Philippe, quindi in quel momento ti rendi conto, cavolo ci sono qua anch'io. Sei lì che sei parte della storia, quale ti piacerebbe vincere di queste? Ma le Ardenne... So che è una domanda banale, però mi viene, sei curioso, sono curioso. Le Ardenne mi piacciono proprio, ne ho fatte, l'anno scorso ne ho fatte due, due anni fa ne ho fatta una, quest'anno spero di farne tutte e tre, Amstel, Freccia e Liegi, e penso che un giorno, cioè che sono quelle gare che un giorno mi piacerebbe vincere, se avrò l'occasione. Un giro a tappe? Ma il giro a tappe è sempre stato il giro, devo dire se mi chiedevi da piccola, però adesso da due anni noi abbiamo il Tour de France che ha un valore, ora che il giro è quasi un po' nascosto. Anche se adesso verrà organizzato, viene organizzato da RCS. Però diciamo che il Tour adesso è considerata la gara più importante del calendario, quindi sì. Ce l'hai nel tuo calendario? Ce l'hai in programma il Tour? No, non lo so ancora perché il programma di solito arriva a dicembre, però diciamo tutti vogliono puntare lì, tutti vogliono andare. Senti, un'altra domanda, siamo nell'Alto Piemonte, siamo in provincia di Verbania, che ha dato i Natali a tanti corridori, ma tra le tue colleghe Elisa Longoborghini. Adesso raccontacela tu, che è plurimedagliata alle Olimpiadi, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso non voglio fare il palmarès di Elisa, ma com'è il rapporto? Vi allenate insieme? Vi conoscete ovviamente? Sì, sì, sì. E siete anche conterranei. Sì, sì, Elisa diciamo che è sempre stata un po' il mio riferimento, soprattutto quando ero piccola, perché lei tra l'altro ha corso del pedale ossolano e poi è sempre stata un po', diciamo, l'eroina della provincia e quindi da piccola ci guardavo molto e ora, soprattutto, essendo passata anch'io professionista, possiamo anche allenarci spesso insieme perché ovviamente il programma adesso io faccio cose più, diciamo, da professionista. Un po' più lunghe. Sì, mentre prima non potevo essendo più piccola e quindi adesso quando siamo qui ci sentiamo sempre perché cerchiamo appunto di trovarci, però è anche difficile perché o sono via io o via lei oppure magari un giorno lei ne ha cinque ore e io ne ho due o viceversa. Quindi è un po' difficile, però sì, abbiamo un bel rapporto, la vedo proprio come mentore, lei mi dà anche tanti consigli e tra l'altro tre settimane fa sono andata al suo matrimonio, quindi... Si è sposata recentemente, insomma, ecco, insomma, un po' quindi è tuo mentore e tu sei il suo delfino e anche chi succederà a... Speriamo, dai. a Elisa, insomma. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, cioè, tu prima ci parlavi del tuo rapporto con la bicicletta, ma dal punto di vista tecnico, meccanico, visto che hai la fortuna di avere un papà, insomma, che... Ma tu segui anche tecnicamente la bicicletta o dici papà oppure meccanici della squadra, sistematemela così, così... Io... O sei una a cui va tutto bene, la bicicletta basta che vada bene e poi pedale... Ma io devo dire sono abbastanza così, oppure se... se mi cambiano qualcosa io non sono una che nota più di tanto, poi sarà che sono sempre stata un po' viziata avendo mio papà al negozio, io l'ho sempre portata lì, se avevo un problema l'ho sempre portata in negozio, quindi... Diciamo che non sono mai stata troppo dietro alla mia bici, però dai, ci guardo quando serve. Beh, chiederai tu i rapporti da montare in base alla gara? No, devo dire che fanno tutto in base al tipo di gara, noi abbiamo diversi protocolli che applicano, però sulla pressione delle gomme o se hai un feedback da dare, voglio questo, voglio quello, ovvio vai dal meccanico e si vede cosa si può fare. Senti, mi viene spontanea un'altra domanda, Alto Piemonte, terra di grandi cronomen, di un grande cronomen su tutti, qual è il tuo rapporto con la corsa a cronometro, con il cronometro? Ma, diciamo che buono, diciamo quando ero più giovane da junior ho vinto anche dei campionati italiani, poi dopo sono passata a professionista e mi sono resa conto che per andare forte a crono bisogna lavorarci, quindi anche con la squadra è uno dei punti un po' che devo migliorare perché tra aerodinamica e allenamento diciamo che è una disciplina che bisogna seguire tanto per andare bene e ovviamente non sarò mai una specialista ma in vista delle gare a tappe ormai bisogna bisogna andare pure a cronometro. E qualche consiglio Gannanot non gliela hai chiesto? No, non ancora, lo conosco ma sì, lui diciamo cura ogni dettaglio, non so se arriverò mai a quel tipo di dettagli perché ovviamente appunto lui è uno specialista però diciamo che ormai tutte le squadre vanno in quella direzione perché è importante. Tu non fai pista? No, l'ho fatta da giovane ma giovane o Dio. Che hai detto da te da giovane? È meno da dire nelle categorie giovanili scusa. L'ho detto da te da giovane insomma. No, però dopo no, ho smesso, non era tanto la mia cosa. Il momento, parliamo sempre da professionista, il momento più difficile che ti ricordi in gara nel quale avresti detto nel quale magari hai pensato ma chi me la fa fare essere qua? Che fatica! Beh, credo alle Ardenne se proprio vogliamo ritornare alle Ardenne e quest'anno il giro, le ultime due tappe ho sofferto il caldo, ho sofferto il fatto che avevamo già corso nove giorni e in quei momenti mi chiedo perché lo faccio però poi finisci e dici Dici perché non studio solamente? Vado all'università Potrei fare qualcos'altro ma in verità sono contenta così. Invece sono momenti difficili però come tutte le cose Beh, sei una professionista e quindi e quindi vai avanti insomma Una salita iconica dei giro e del tour che hai fatto o che ti piacerebbe fare? Una cima coppia? Ma io avendo fatto solo un giro diciamo che non ne ho fatte tante ho fatto il pian del lupo verso Torino che quello è stato anche forse un momento duro se adesso ci penso però l'anno prossimo il tour de France finisce sull'Alpe d'U.S. e quindi mi piacerebbe fare il tour prima di tutto e fare una salita diciamo mostruosa come la chiamano come quelle Che devono essere veramente faticose Sì, sì, sì Quelle ma proprio faticosissime Segui anche immagino un'alimentazione particolare o non sono così restrittivi diciamo i vostri preparatori Io sono ancora diciamo ai primi anni quindi cercano di non stressarci troppo su quella parte lì però ovviamente in generale l'alimentazione in generale ci seguono tanto che piatto sia bilanciato che mangiamo tanto in gara loro soprattutto da quando una cosa che ho imparato da quando sono professionista che mangiare in gara è importante anzi fa la differenza e quindi diciamo che essere tirati o no che prima era molto diciamo se pesavi meno andavi più forte adesso questa cosa non esiste più molto e quindi ci sono un po' più liberi però quando arrivi vicino all'appuntamento importante allora si guardano anche quei dettagli lì che cosa vi dite quando siete in gruppo a tutta c'è qualche screzio qualche discussione perché ovviamente alla televisione non ce ne accorgiamo ma voi sentite qualcosa fate sì devo dire che anche noi donne in gruppo se ci è qualche problema diciamo che lo senti litigate certe volte capita anche perché quei momenti lì poi tutti hanno il loro obiettivo e cioè magari io ho anche una mia amica di fianco ma se tu hai scritto DSM guardi solo DSM e non ci sono amici in gara poi dopo la gara appunto passato la linea d'arrivo tutte amiche di nuovo non ci sono però lo sport è così quindi degli strascichi ma paura di cadere di farsi male ma quella viene quando ti capita io ho avuto un paio di volte che cadi in gara o cadi in discesa e dopo ti rimane un po' la paura per per qualche tempo però diciamo che poi fa anche quello un po' parte dello sport che è il ciclismo e quindi ti abitua anche a toccare l'asfalto quindi fa parte del gioco anche perché mi sono sempre chiesto anche lì sempre a proposito di quello che pensate cosa pensate quando andate giù a 90 chiudi gli occhi e vai no 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 poi soprattutto ultimamente andiamo parecchio forte quindi ci sono dei momenti in gara in cui dici stiamo rischiando però è così adesso tu sei ancora in una fase in cui sei gregario inteso o sei già una sì diciamo che l'anno scorso a fine stagione ho avuto un po' qualche opportunità ma appunto sono abbastanza giovani quindi c'è una scala gerarchica sì sì c'è una gerarchia nella mia squadra però comunque sono ho un buon ruolo adesso tra l'altro sono stata capitana a un paio di di gare che capitana per noi noi abbiamo la leader che è quella che fa il risultato e la capitana che è quella che fa un po' la regista e mi è capitato qualche volta di farlo anche in squadra quindi mi trovo bene anche con questo ruolo devo dire però sì l'anno prossimo sicuramente essendo anche terzo anno avrò un po' più di opportunità magari nelle gare minori o queste cose qui bene Francesca grazie per averci dato anche uno spaccato di che cos'è la vita di una ciclista professionista di essere stata con noi ovviamente si dice sempre in questi casi in bocca al lupo per i tuoi prossimi risultati e magari ritornerai a trovarci in qualche prossimo episodio volentieri grazie ciao a tutti grazie grazie grazie